Tu vuoi diventare subito donna? Credi che fossi già un uomo quando sono nato? Lara ha 15 anni, è un sogno, diventare ballerina professionista. Ci prova ogni giorno, alla sbarra, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza, ma è nata ragazzo e deve fare conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo con gli ormoni. Opera prima di Lucas Don't, Girl è un crudo racconto di formazione sull'impazienza della giovinezza, sulla sofferenza del corpo e sul percorso di un'anima per diventare se stessa. Frontale, ma pieno di pudore e di grazia, il film mostra cosa significa concretamente abitare un corpo altro. Ad interpretare Lara è Victor Poster, ballerino dell'Accademia di Anversa e vera e propria epifania. Grazie a tutti.